Buongiorno a tutti, Fondazione Politecnico segue il progetto Erasmus per giovani imprenditori sostanzialmente dalla sua nascita in varie forme e modi e oggi presenterò quanto abbiamo già in parte visto ovviamente grazie all'intervento del professor Secchi, quindi quali sono i temi che vengono coperti da questo programma, come si può partecipare al programma e ovviamente alcuni casi di successo appena valle del mio intervento. Partirei subito con il concept, il concept che è già stato anticipato è molto semplice, si basa sul principio di aiutare dei giovani imprenditori a poter andare a lavorare presso delle PMI estere, quindi trasferirsi all'estero e durante questa operazione imparare, trasferire verso l'estero le proprie conoscenze e al tempo stesso specialmente apprendere dall'estero quelle che sono le conoscenze e le realtà delle aziende ospitanti l'imprenditore stesso. Ovviamente l'operazione di matching tra l'impresa ospitante e il giovane imprenditore non è banale ed è quella che viene gestita attraverso le organizzazioni intermediarie. Il funzionamento è estremamente semplice, quindi il giovane imprenditore e l'imprenditore ospitante si possono candidare online in maniera passiva e al tempo stesso le organizzazioni intermediarie agiscono in maniera attiva per individuare questi due tipi di figure. Queste figure vengono quindi valutate, vengono matchate in maniera idonea perché ci sia un mutuo, una situazione di win-win e successivamente quindi si avvia il progetto vero e proprio. Il progetto prevede il trasferimento all'estero per un periodo da uno a sei mesi del giovane imprenditore e durante questo periodo le spese di trasferimento vengono coperte dal programma stesso. I servizi che vengono gestiti, che sono a supporto dei giovani imprenditori e degli imprenditori ospitanti sono ovviamente da un lato la ricerca attiva passiva e operazione di matching tra i vari soggetti. Dall'altra la valutazione ovviamente delle richieste per garantire un certo tenore di qualità dei giovani imprenditori che vengono trasferiti poi all'estero o che vengono ospitati e specialmente la parte di supporto sia durante il periodo di trasferimento che poi durante le fasi di organizzazione e trasferimento stesso per i giovani imprenditori e per gli imprenditori ospitanti. I benefici per gli aspiranti imprenditori ovviamente sono molteplici, non vorrei ripetere qui quanto è già stato detto in precedenza per cui sarò molto veloce, sicuramente una delle cose più importanti che si acquisiscono durante questo periodo di trasferta all'estero è la competenza, la conoscenza dei mercati esteri. I mercati all'interno della comunità europea sono diversi, non sono ovviamente tutti uguali quindi imparare come fare a vendere, come entrare, come penetrare all'interno di mercati della comunità europea in maniera molto veloce ed efficiente è uno dei valori aggiunti più importanti che sicuramente questo tipo di attività è in grado di portare verso il giovane imprenditore. Per l'imprenditore ospitante ovviamente vi sono anche in questo caso una serie di benefici, sicuramente anche in questo caso il beneficio maggiore viene dai rapporti interpersonali e dall'acquisizione di conoscenze e competenze sui mercati di provenienza del giovane imprenditore. Il giovane imprenditore ha molta energia, parte con un progetto imprenditoriale in mano per cui ha un'idea di come poter portare avanti il proprio progetto imprenditoriale nel proprio mercato di riferimento e l'imprenditore ospitante quindi ha al tempo stesso la possibilità non solo di capire come funziona eventualmente il mercato di provenienza del giovane imprenditore ma anche di trovare un potenziale partner futuro per i propri progetti di sviluppo. Il programma ha dei numeri sicuramente di rilievo, complessivamente in questi anni sono stati coinvolti 3.000 aspiranti imprenditori, 2.000 imprenditori ospitanti, 1.000 relazioni e scambi di successo quindi in 4 anni, sono dei numeri veramente importanti e sono state coinvolte complessivamente 180 organizzazioni all'interno dei vari paesi della comunità europea. Va detto che i paesi che hanno un maggior numero di organizzazioni intermediarie sono Italia e Spagna e questo giustifica anche quelli che sono poi i numeri per quanto riguarda le statistiche dei paesi di origine. Vediamo che i nuovi imprenditori provengono principalmente da questi due paesi che rappresentano complessivamente il 50% del totale mentre gli imprenditori ospitanti anche in questo caso vedono una dominanza da parte di Italia e Spagna ma sono anche abbastanza ben distribuiti e rappresentati in tutta la comunità europea. Questo è un dato molto importante perché significa che ci sono buone possibilità per andare in paesi di vario genere all'interno della comunità europea stessa con diverse realtà di sviluppo e diversi mercati di riferimento. I paesi che sono più richiesti come destinazione sono l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e l'Olanda. I settori sono sostanzialmente coperti tutti, si vede come la parte di altri settori sia molto preponderante sul totale per cui comunque veramente vi è una copertura a tappeto su tutti i settori, vi è un certo interesse verso la parte di media e communication e la parte ovviamente di turismo e ICT in generale. Per chi fosse interessato questi sono i riferimenti per contattarci, noi ovviamente siamo a disposizione per qualsiasi domanda sia da parte dei giovani imprenditori che dei potenziali imprenditori ospitanti e adesso vorremmo presentare una serie di case di successo che sono stati portati avanti all'interno di questo programma nel corso di questi anni partendo con un video e poi passando invece a delle presentazioni di persona, di persone che sono state o imprenditori ospitanti o giovani imprenditori. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.